Trasferta palermitana per l'Unitas e Sciacca, che per la terza giornata del campionato di promozione Gironea va ad affrontare il Bageria-Città delle Ville. Il match, che avrà inizio domani alle ore 15.30, sarà disputato a porte chiuse, posto che il campo di gioco palermitano ha problemi riguardanti la documentazione inerente alla sicurezza e quindi non può disporre delle tribune. Si pensava che la partita potesse essere giocata in campo neutro, invece si svolgerà regolarmente a Bageria. I neroverdi sono chiamati a confermare la buona prestazione messa in atto contro il volenteroso Gattopardo e tornare a Sciacca con un risultato positivo. In classifica, come dato statistico, il Bageria ha un punto in più dei saccensi, frutto di una vittoria e di un appunti e posizioni. Mister Vincenzo Piazza dovrà fare i conti con qualche assenza, quella di Coco, per influenza, e di Tardo. Inoltre è in dubbio pure Turturici, che domenica scorsa era squalificato, ma che in settimana non si è allenato. Per il resto, Piazza ha praticamente tutta la rosa disposizione. Potrà scegliere quindi la miglior formazione da mandare in campo, facendo sicuro affidamento sulla coppia gol Galluzzo-Cortese, già autori entrambi di diverse marcature. Tra le altre partite in programma, particolare rilievo potrebbero assumere gli incontri tra città di San Vitolo Capo e Mazzarese e quello tra Dolce Onorio Folgore e Nissa, due nobili decadute del panorama sportivo siciliano. Mercoledì, infine, sarà poi nuovamente il turno della Coppa Italia di Lettanti. Dopo aver superato l'Empedoclina con una duplice vittoria, lo Sciacca giocherà la partita di andata contro il Dolce Onorio Folgore, squadre che si sono già affrontate nella prima partita di campionato.